Allora, visto che abbiamo cominciato così, continuiamo con questa scia di Reggiani, non soltanto sulle piste da sci o così che si aggirino nella nostra redazione, ma andiamo a conoscere nell'ambito della nostra rubrica settimanale dedicata ai libri un autore di Correggio. Si tratta di Orazio Giannone, buongiorno, buongiorno Orazio, benvenuto, benvenuto davvero, grazie pochi istanti per insomma conoscerti, visualizzarti, apprezzare questo tuo modo di fare molto garbato, molto sorridente, salvo poi dover presentare un libro dal titolo I delitti del Duomo di Modena. Allora, questa è la prima situazione che mi incuriosisce molto, non è il tuo primo libro, raccontaci un po' come ti sei scoperto scrittore e quando, soprattutto in che modo. Ma allora, innanzitutto diciamo che questa avventura sui delitti del Duomo di Modena è nata un po' per gioco. Poi essenzialmente quando ero piccolo avevo una vecchia zia che continuava sempre a dirmi quando c'è la nebbia è San Geminiano che nasconde la città dai barbari. E io sai, da piccolino ero un po'... poi sai io sono reggiano, quindi San Geminiano lo conoscevo ma relativamente poco. Certo. Io adesso sono modenese d'adozione e quindi ho incominciato a appassionarmi alla storia di San Geminiano e del Duomo. Ho fatto delle ricerche storiche, sono andato nel Duomo, sono andato a Cognento e man mano ho scoperto questa realtà io ne sono rimasto veramente colpito. Sì, sì. Sia del Duomo, perché il Duomo è un edificio storico, è un edificio religioso, ma secondo me è un edificio che parla. Ogni suo particolare, ogni storia che racconta ne vengono fuori tante altre e così via ho pensato di raccontare sia la storia di San Geminiano che il Duomo che la città di Modena tramite però l'esperienza letteraria di un thriller. Di un thriller, esatto. Allora innanzitutto questo volume è dedicato a San Geminiano, quindi insomma un po' dalla tua infanzia con quest'aura un po' di mistero, di così noir che già un po' in famiglia ti veniva trasmessa. In realtà poi sei, anche ti sei legato alla figura di San Geminiano a tal punto da dedicargli poi la tua opera, no? Tutta l'opera, sì. È una trilogia, sono appunto tre libri. Adesso questo è il primo episodio. E diciamo che c'è un segreto, c'è un mistero legato a un potere che ha San Geminiano, che è il potere taumaturgico, che diciamo lui ha questa fonte, c'è questa fonte taumaturgica che ha questi poteri per alleviare le sofferenze della popolazione modenese e in questa storia c'è un mistero e lì iniziano a cadere delle cose all'interno del Duomo e devono cercare questo mistero e questa porta, diciamo, segreta per arrivare a trovare questa fonte taumaturgica e tutti vogliono prendere il potere. Eh certo, insomma, quindi è un tema abbastanza ancestrale quello appunto del raggiungimento del potere da parte delle persone. Diciamo che è un thriller però ha anche una sfera mistica e diciamo abbastanza, diciamo, tra virgolette religiosa da un certo punto di vista. E' chiaro che tutti i personaggi che cercano di combattere tra di loro, perché ci sono varie sette, devono cercare tutti di entrare dentro il Duomo, cercare degli indizi e trovare questi indizi per arrivare a scoprire dov'è questo mistero. E sai, non ti posso raccontare troppo però... Infatti è il dramma di dover intervistare gli autori magari di opere thriller noir che non possono ovviamente raccontare come va a finire. Non possono dire, però diciamo che lì ogni personaggio deve poi fare una ricerca storica, quindi intervengono degli esperti della storia di Modena, intervengono degli esperti d'arte, c'è la polizia e devono iniziare a scoprire proprio la vita di San Geminiano. Quindi dal 312, quando lui è nato, fino alla sua scomparsa, sono accadute degli avvenimenti che hanno permesso tanti miracoli e da lì loro devono capire il perché e dove si trovano queste cose. Tu saprai che il Duomo è misterioso perché effettivamente ci sono tanti esempi in Italia di costruzioni religiose veramente splendide, però secondo me il Duomo ha un'atmosfera veramente particolare. Io credo che chiunque vi entri ne rimanga colpito. Esatto, nei secoli tra l'altro. Nei secoli tra l'altro. Questo effetto, insomma, dall'inizio... E devi tenere presente che all'interno del Duomo ci sono intercappedine, ci sono scale segrete, ci sono doppi muri, ci sono tantissime cose che noi normalmente non vediamo. E quindi da lì l'ispirazione... È l'ambiente perfetto per un thriller, no? È l'ambiente perfetto per un thriller, ma anche la Modena di notte. E queste atmosfere a volte un po' lucubre tra la nebbia e la luna, insomma, ci sono molte... Secondo me Modena aveva un fascino tutto particolare. Si presta anche ad essere trasferita all'oggi, insomma, a parte... E' ambientato nel passato? No, allora, il libro è ambientato... La storia è ambientata nel presente, però ovviamente è piena di flashback del passato. Io ho voluto scrivere questo thriller dandogli un taglio internazionale. Quindi anche se è dedicato a San Gimiliano e a Modena, in sé però il thriller ha un taglio internazionale. E tutta la storia, fino a diciamo tutta la trilogia, è in tre episodi ma ha un filo conduttore. Certo. Quindi ovviamente ogni opera poi ha una conclusione, seppur parziale, in sé ovviamente. Ha una sua conclusione parziale. Perché non si può lasciare disatteso il lettore, no? No, 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 no. Sebbene aspettiamo i prossimi due, però... Però io non ho mai dato per scontato niente. Cioè né la storia, né i personaggi, né anche la trama del thriller in sé. Perché, come ti dicevo, c'è una sfera, una parte surreale. Quindi non è tutto reale quello. Certo. E chi l'ha letto mi ha sempre chiesto, ma scusa, dunque, ok, quella porta la conosco, quella strada la conosco, ma poi dopo, quel posto lì che è descritto dove si trova. Esatto, esatto. Perché ho cercato di mantenere un confine labile tra quello che è l'informazione storica e quello che è la fantasia. Perché ovviamente è un romanzo. È certo, certo. Io poi sai, non sono uno storico. Sì, però sei un appassionato. Sono un appassionato. Evidentemente hai condotto anche tu ricerche e studi, come dicevi, poco fa. Ovviamente, ovviamente. Perché poi alla fine sono mille pagine, quindi è stato un lavoro abbastanza lungo. Sì, è curioso. Senti, i personaggi, allora, immagino ce ne siano alcuni ricorrenti, altri che invece cambiano nel corso della trilogia, oppure no? Sì, no, allora, i personaggi cambiano, ovviamente, perché essendo un thriller, ahimè, qualcuno muore. Però, per ovvie ragioni, ecco, vanno sostituiti. Esatto, qualcuno muore. Però, nelle vicende escono personaggi nuovi, che si muovono intorno sempre a questi misteri e a trovare un po' questo loro posto nel mondo. Sì. Sì, secondo me, molto bella è la descrizione della sfera femminile, dove c'è questa confraternita di sorelle, che si chiamano sorelle tra di loro, in realtà sono delle cartomanti. Ah. Allora, scoprono che c'è questo mistero, questo potere, e quindi se ne vogliono impadronire. Quindi le donne sono una parte importante di tutta l'azione. Anzi, non sono mai in disparte le donne in questo. Sì, sì. E, infatti, Modena, per me, è come fosse lo specchio del mondo. Cioè, quello che avviene a Modena, quello che avviene in questa città, non è una questione di essere provinciali, perché siamo a Modena. Cioè, Modena può essere benissimo portata a livello... In qualsiasi altro luogo e comunque... Cioè, io ho visto Modena come se fosse Parigi, come se fosse New York, ce l'ho descritta in questo modo. Perché già creare una trilogia su Modena era un discorso abbastanza ampio, quindi l'ho vista in questo modo, insomma. È bello anche questo modo di considerare, appunto, una città molto vicina a te, seppur non la tua città d'origine, anche nella volontà di riscattarne l'interesse, le potenzialità, il mistero, no? Anche da questo punto di vista. Certo, ma guarda che, allora, innanzitutto San Geminiano e il Duomo per la città di Modena, nei secoli, è stato un filo conduttore. Sai, qui è stata una zona devastata mille volte dalle alluvioni, era una valle e quindi purtroppo molti documenti sono andati persi, certe cose non si sanno più, ci sono anche idee contrastanti. Però devi sapere che ai primi del Novecento, o comunque nel Novecento, Modena, San Geminiano e la sua fonte erano, non dico al top, però erano al top. C'erano migliaia di pellegrini che venivano da tutta Europa per arrivare e rinfrancarsi bevendo l'acqua della fonte di San Geminiano. Ma anche se vai a Cognento, dove c'è questo tempio, questo tempietto, io sinceramente non lo conoscevo. Pochissimi, insomma. Nessuno, devo dire. Però io quando sono andato a vederlo e mi sono recato in questo luogo, anche questo è estremamente misterioso. Cioè, voglio dire, io mi sarei aspettato di trovare moltissime persone, invece era deserto. Era deserto, sì. Quando sono uscito da questi alberi che un po' lo nascondono e ho visto questo tempio, questa statua così imponente e tutto il tempio decorato, lavorato, con le stesse colonne che ha il Duomo, con tutte queste targhe. Io sinceramente ne sono rimasto meravigliato. Cioè, ci ho messo tre giorni per riprendermi. Perché ho detto, ma scusate, ma San Geminiano cosa ha rappresentato per questi luoghi e per questa zona? E poi questa fonte. Ma io non ho mai sentito parlare. Ma come mai? Ci dovrebbero essere tantissime persone qui che vengono a bere. Già, questo è un mistero, no? È un mistero. E dici, ma perché? Non c'è una valorizzazione, un'attenzione, una conoscenza? No, io adesso nel mio piccolo volevo portare a conoscenza tutte queste storie. Come ti ho detto, da queste storie ne ascono tantissime altre. Però, sai, io sono di una generazione, non sono più tanto giovane, però anche i miei coetanei non la conoscono. E quindi anche i ragazzi di oggi, o tantissime persone, anche che non sono di Mordona, secondo me dovrebbero conoscere questa storia. Sì, sì. Ricarsi a cognito, a vedere il Tempio, perché effettivamente è una costruzione spettacolare. Tenendo presente che anche la fonte in sé è più in basso, perché come ti dicevo prima, le alluvioni hanno rialzato un po' tutto il livello della... Io ho giocato un po' anche su queste alluvioni, sulla terra che si muove, che si alza nei secoli, quindi il livello della strada non è più quello. Poi ci sono i sotterranei, ovviamente tanti mi dicono, ma i sotterranei di Modena, se ci sono, non sono praticabili, perché ovviamente è un terreno... Certo. Eh, ma bisogna leggere il libro per capire perché ci sono dei sotterranei in un certo modo sotto il duomo. Ecco, 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 quindi un'occasione. È un mistero anche quello. È un mistero, è un mistero. E insomma, magari scoprire anche dell'esistenza di luoghi nascosti attraverso i tuoi libri può essere un modo per interessare anche i cittadini a questi misteri della loro città. Diciamo che il mio scopo era quello. Era questo, sì. Intanto io ho voluto solo raccontare una storia, un romanzo e far conoscere, diciamo, il duomo e tutta la sua storia tramite un libro. Però sicuramente quando si parla della costruzione del duomo, delle difficoltà di recuperare i materiali, ovviamente tanti arredi o tanti pezzi comunque che sono del duomo vengono da altre chiese, da altri templi. Quindi è tutta una costruzione di un certo tipo, quindi anche il costruttore si è trovato, insomma, a non piccole difficoltà. Eh certo. Sai, le chiese precedenti a Lanfranco erano più piccole, addirittura inclinate in maniera diversa. Quindi c'è tutta una storia che ho voluto anche raccontare, le fatiche di Lanfranco. Esatto, sì, mentre realizzava questa. Sono tutti flashback. Esatto, un modo appunto per scoprire anche i misteri di un luogo che sembra così noto, ma che in realtà attraverso le sue storie nasconde tanti aspetti non ancora svelati, diciamo. Esatto, diciamo che il primo libro descrive una Modena che va dal 300, insomma, fino al 1000. Il secondo libro descrive una Modena dell'Ottocento e il terzo libro invece parla di una Modena del 45 e di una mutina ancora dove non ci sono i romani. Ah, ecco, per i precedenti addirittura. Io in tre libri ho cercato proprio di coprire tutto l'arco storico della zona di Modena. Sembri più interessato alla storia che al thriller, devo dire. Allora, perché dal thriller non posso dire niente. Il thriller non posso dire, però come genere, ad esempio, come ti sei raffrontato con questo genere, insomma, ci sono state delle difficoltà. Che cosa significa per te scrivere una storia così anche intricata, intrecciata tra personaggi, eventi e storia, quella con la S maiuscola? Non è facile tenere i figli di tutto quanto, eh? No, assolutamente, anche perché ci sono veramente tante situazioni, tanti luoghi diversi che devono crescere, devono nascere in questa storia e poi a un certo punto si devono unire e costruire proprio la storia vera. E lì ci sono momenti in cui siamo a Firenze, nel momento in cui siamo a Modena, nel momento in cui siamo sottoterra e poi ci sono queste, diciamo, sette e queste confraternite che lottano tra di loro per, diciamo, arrivare a questo potere, a questo mistero. E abbiamo i gioviniani, che è un gruppo di persone che si sono unite professando ancora la doltrina dolciniana che professava anche Gioviniano. Ci sono i geminiani che invece sono quelli che proteggono il Duomo e proteggono questo mistero. Ci sono le sorelle che anche loro cercano di combattere questa lotta fino alla fine. Poi ovviamente abbiamo anche la polizia, abbiamo l'ispettore, abbiamo l'esperto d'arte, però, come ti dicevo, i personaggi, siccome è un thriller, però è un thriller che ha delle connotazioni surreali, i personaggi durante la storia cambiano, non sono mai gli stessi, un po' come noi, evolvono, crescono. Evolvono, sì, hanno tante contraddizioni, hanno tanti desideri, ma poi, come dico sempre io, uno può avere un sogno, però stai attento a quello che sogni, perché se si realizza e tu non lo conoscevi, il sogno ha, diciamo, una connotazione molto surreale, quindi se tu una cosa comunque non la conosci, la desideri, ma non la conosci, quando poi la ottieni, non sai se quello che volevi era quello. Esatto. E la stessa cosa sono i miei personaggi. Senti, il tuo sogno qual è rispetto ai tuoi libri, naturalmente, che cosa ti aspetti, come proseguirai anche questa tua avventura di scrittore? Ma, sinceramente, al momento io non ho delle grandi pretese, nel senso che per me è quasi naturale raccontare queste storie. Forse quasi non mi ritengo neanche uno scrittore, ma mi ritengo più uno che racconta storie. Io ho, diciamo, ho pubblicato il primo libro dei delitti e nel frattempo ho scritto un noir, che è un giallo ambientato a Correggio, anche lì in un... Quindi anche un omaggio alla tua cittadina d'origine, non potevi mancare. Dove c'è anche lì un mistero particolare in un boschetto antico, dove ci sono cose, insomma, da svelare. Sì, sì. E dopo ho finito la trilogia, quindi quest'anno penso che pubblicherò anche il secondo. Sì. E nel frattempo ho scritto un fattascienza per ragazzi, che sì, adesso sono in pubblicazione, comunque l'ho mandato da alcuni editori per vedere se... La scrittura per ragazzi porta con sé... Difficilissima. Esatto, esatto, un'ulteriore complicazione, insomma, non è semplice anche riuscire ad accattivarsi di ragazzi. Io, diciamo che, adesso, tra virgolette lavoro in equip, nel senso che io stresso tutti, cioè amici, parenti e quella santa donna di mia moglie, credo che mi ami dopo tanti anni. Che è la tua editora, immagino. No, la stresso talmente tanto a volte che, sai, a volte le... È fatto questo effetto a volte, voi i mariti però, insomma, mi devo confrontare, insomma. Sì, 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 sì. Stresso anche mio figlio che ha 16 anni e gli dico, ma secondo te questa storia come dovrebbe andare a finire? Cosa ci metto? Qual è il finale? Beh, quindi cerchi anche un riscontro. Alcuni suggerimenti sono anche di mio figlio. No, poi, chiaramente, ho parlato con persone di Modena, ho parlato con degli esperti e poi, sai, il libro, prima di pubblicarlo, insomma, è stato letto da varie persone, perché, sai, a volte lo scrittore ha una sua idea, ma non è detto che quello che io avevo in testa sono riuscito a trasmetterlo nel libro. Effettivamente. E quindi confrontarsi con persone di estrazioni anche sociali diverse, perché non è detto che... Anche con attitudini alla lettura, differenti, sicuro. Esatto, perché comunque questo tipo di libro deve essere alla portata di tutti, quindi io mi sono sforzato di essere semplice, di scrivere fluidamente, tutto un discorso anche molto complicato, perché lì ci sono degli intrecci veramente molto... Complessi anche, sì, 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 sì. Io non mi sono perso nello scriverlo, ma ho voluto che le altre persone verificassero se quello che io volevo dire, insomma, era vero. E quindi il fatto che, insomma, sia tra le mie mani significa che alla fine sei riuscito anche a trovare questa sintesi, no, di intenti tra te come scrittore e anche di riscontro con i tuoi lettori, hai avuto buone recensioni alla fine. Ma allora, per adesso sì, ti devo dire la verità. Quando mi dicevi poco fa delle video che abbiamo, il trailer, che abbiamo anche trasmesso... Il book trailer. Il book trailer, sta avendo un sacco di visualizzazioni, no? Sì, sì, è stato messo sulla mia pagina da scrittore, pagina pubblica, Orazio Gianone, scrittore, da pochi giorni e da duemila visualizzazioni. Ma il problema più grande in questo momento per una persona della mia età è quello di trovare un linguaggio nuovo. Cioè, il mondo è cambiato, il linguaggio è cambiato, quindi il, diciamo tra virgolette, il libro classico cartaceo che si va in libreria a comprare non è più quello di una volta. Quindi anch'io mi sto confrontando con una serie di situazioni nuove, perché l'ebook su internet, quindi viene scaricato, non ha più in mano la carta. Sì. Io sono un po' più... Siamo affezionati anche... Però anch'io ho cominciato a scaricare degli ebook e leggere... Poi ci sono i social network, c'è Facebook, ce ne sono talmente tanti... Precchi misteri anche da questo punto di vista, con la tecnologia, eh, visto che abbiamo parlato di misteri fino ad adesso. Siamo in un periodo dove la letteratura sta soffrendo molto, ma perché noi stessi scrittori dobbiamo capire come arrivare al pubblico e in che modo. Io, sinceramente, anche il book trailer non... Insomma... Non eri, insomma, tanto avvezzo all'idea, no? Ma sai, è una cosa che si fa da alcuni anni, no? Sì, sì. E adesso noi abbiamo fatto la prima versione del book trailer che secondo me, insomma, è abbastanza accattivante, mi fa venire paura a me. E quindi... E quei ragazzi con cui l'abbiamo fatto, ho detto, ma siete sicuri ragazzi, noi che li spaventiamo, anziché comprare un libro... Magari uno dice, no grazie, questo no. Grazie, mi hai fatto paura. Ma invece, insomma, ti auguriamo veramente che possa sia il book trailer, ma soprattutto la lettura, anche con il libro, le pagine, il loro profumo tra le mani, possa portarti davvero tanta fortuna. Contiamo di ritrovarti quando sarei pronto con il secondo volume di questa trilogia inaugurata appunto da I deliti del Duomo di Modena per Orazio Giannone. È stato un grande piacere conoscerti, buon lavoro. Grazie a te di avermi invitato. Grazie, grazie a te.